Oggi si inaugura la prima ruota panoramica della città di Cagliari, un evento importante per la nostra città che vuole fondare sul turismo una parte importante della propria economia. Un anno molto difficile per la nostra città, questo è sicuramente un bel segnale e ringraziamo l'autorità portuale per aver creduto in questa scommessa e siamo sicuri che sarà molto ben accolta sia dai cagliaritani che dai sardi che dai turisti. Io direi finalmente, finalmente parte questa ruota panoramica in città, è una straordinaria opportunità per la promozione del nostro territorio, una straordinaria attrazione turistica e mi rivolgo soprattutto ai tanti operatori commerciali che sono rimasti chiusi per tre mesi a caso del lockdown. Io spero che ci possa essere del ristoro per loro e sicuramente questa contribuirà a dare una mano e un boccato d'ossigeno. Voglio tranquillizzare tutti quanti, si è parlato di tanti costi per l'amministrazione comunale, non è costata neanche un centesimo, è stata una gara vinta da un privato che ha pagato 30 mila euro la tutela portuale, per cui era un'occasione che secondo me non andava persa e noi ce la siamo fatti sfuggire. Oggi siamo qui ad inaugurare la cosiddetta ruota panoramica, un momento importante e innovativo per la città, una novità per i turisti, una novità per i cagliaritani, per coloro che vorranno approfittare veramente di volere la nostra città dall'alto. E' stato oggetto, come ho detto a qualcuno, di critiche, di opposizioni, come giusto che sia, perché le cose chiaramente vengono anche molto spesso criticate. Ma io direi che probabilmente qualcuno ha parlato di schiaffo alla città, perché magari l'impatto ambientale, che si trattasse di qualcosa di oscuro, tra virgolette. Però io credo che questo non sia uno schiaffo, ma sia veramente qualcosa di nuovo e di importante, soprattutto per la valorizzazione del porto, anche alla luce dell'ultimo verdetto del Consiglio dei Ministri che ci ha permesso di rivalorizzare e di abbandonare quel vincolo pasaggistico. Quindi sarà la cosa più importante per noi che il porto riprenda veramente la sua identità, la sua naturalezza e soprattutto che si parli finalmente di occupazione. Si tratta sicuramente di una bella scommessa imprenditoriale che sicuramente ha avuto il pregio di voler provare a superare una situazione difficile e che dà pregio comunque al nostro waterfront e sicuramente lo abbellisce e comunque dà un ulteriore momento di speranza per una ripresa più leggera. Benvenuti sulla City Eye, l'elegante luogo. Aspeggiando tra i monumenti e le rovini archeologiche della città, scopri Cagliari Sotterranea. Cagliari da vita, Cagliari da male.